Il Consiglio regionale che si è appena concluso è stato un Consiglio importante dove abbiamo discusso parecchi punti all'ordine del giorno, purtroppo portiamo ancora in eredità il nuovo assetto della maggioranza in cui c'è stata una sospensione di un mese e mezzo di attività consigliare e quindi ci sono parecchi punti all'ordine del giorno che sono ancora da evadere. Questa è la ragione per cui abbiamo richiesto nuovamente la convocazione di un Consiglio straordinario per cercare di discutere tutte le iniziative che l'opposizione ha portato all'attenzione della maggioranza regionale. In particolare la nostra attenzione è stata posta su temi che riferiscono all'economia valdostana, ma anche al sociale e alle difficoltà che vive la popolazione in questo momento. Per quanto riguarda l'economia abbiamo posto l'attenzione al settore del commercio dove è stata approvata un'importante mozione che si prefigge di fare il punto sulla situazione di contesto estesa all'intera Valle d'Aosta perché nell'ultimo decennio c'è stata una riduzione significativa di attività commerciali, di esercizi di vicinato. Quindi occorre capire quali sono i numeri, la consistenza reale attuale dell'offerta commerciale, dopodiché bisognerà capire come affrontare questo problema per cercare di essere vicini a chi eroga questo servizio, soprattutto nelle realtà di media montagna perché i punti commerciali non sono solo un punto di erogazione di servizi e un momento dove si fa della compravendita, ma sono anche un punto che fanno parte della rete comunitaria delle nostre realtà di montagna. A fianco di questo argomento ci siamo occupati anche di Finaosta per cercare di riorientare la mission e adeguarla a quelli che sono sostanzialmente le difficoltà che vivono oggi le imprese e le attività valdostane perché in altre regioni lo hanno già fatto, hanno sostanzialmente messo in piedi delle strutture che possono dare il loro apporto per favorire anche l'accesso o l'utilizzo dei fondi europei da parte di imprese che sono poco strutturate sotto il profilo amministrativo. Siamo stati vicini anche alla popolazione nel settore energetico, abbiamo proposto la norma di attuazione relativa all'abbattimento in Valle d'Aosta, all'azzeramento degli oneri del sistema di trasporto delle bollette elettriche, è un tema su cui si deve lavorare, il governo non ha ancora preso con la dovuta attenzione questo argomento, questo dossier, ma per quanto ci riguarda, seppure sarà una battaglia difficile da fare con lo Stato, riteniamo che vada fatta perché in Valle d'Aosta la rete di distribuzione è in concessione alla regione, quindi non è corretto che da parte dello Stato ci si chieda la partecipazione sugli oneri di sistema e di trasporto. Abbiamo anche parlato di disabilità, abbiamo sostanzialmente portato all'attenzione dell'assessore la necessità, che peraltro era già stata condivisa negli ultimi mesi dell'anno, di affrontare in modo innovativo a questo settore e di mettere a disposizione di chi vive queste situazioni di difficoltà, di disagio sociale, le migliori risposte che può mettere in piedi la pubblica amministrazione.